Buon venerdì a tutti, eccoci qui, siamo alla puntata che chiude il ciclo di puntate settimanali di Canale 2C e come abbiamo portato durante tutti questi giorni la discussione avanti sul piano politico, direi che ci sembra il caso anche oggi di capire un po' in chiusura di questa settimana cosa è accaduto. Ci sono stati due consigli comunali ma si è capito che bisognava, un po' come si fa quando si chiude l'ufficio per andare in vacanza, mettere in ordine le carte e chiudere l'ufficio, almeno questa è stata un po' la mia lettura dell'ultimo consiglio comunale, ieri c'è stata riunione di giunta, sono stati approvati gli ultimi provvedimenti in corso e adesso attendiamo tutti questa data del 12 dicembre per capire se ci sarà il ritiro delle dimissioni da parte della sindaca o invece ci sarà il commissariamento del nostro comune. Ne parliamo con un ospite che non abbiamo qui nei nostri studi da parecchio tempo, ma lui ex ABC, attualmente ancora consigliere comunale, si era già fatto fuori in un periodo nel quale era emersa qualche criticità all'interno del movimento ABC. Ma non vogliamo parlare solo di ABC, ci chiediamo un po' di mettere ordine a questa settimana che mi è sembrata cruciale, intanto perché abbiamo rivisto anche la tua presenza nei banchi del Consiglio Comunale, cosa che non vedevamo da tempo, perché? Beh, innanzitutto grazie, grazie Felice per avermi dato questa possibilità. Io sono sempre stato dell'idea che intervenire, soprattutto quando si è in maggioranza, bisogna intervenire quando bisogna chiarire determinati aspetti e chiarire la visione politica di ogni consigliere comunale all'interno della maggioranza. L'ultimo Consiglio Comunale, ce ne sono stati due in questa settimana, lunedì e mercoledì, lunedì è stato un po' infruttuoso come Consiglio Comunale, mentre mercoledì abbiamo cercato di portare a termine, secondo me è un ciclo, visto un attimo la situazione politica, visto quelle che erano le condizioni della maggioranza. Io nel mio intervento addirittura ho detto, per me il senso di responsabilità di cui tanto si è parlato e come diceva qualcuno un po' ha fatto perdere il senso a questa parola, è un po' a margine della mia azione politica. Io credo e credevo, quando lo abbiamo approvato, che era proprio un atto dovuto approvare il bilancio consolidato. Non è una questione politica, procrastinare oltre, tu sei un consigliere comunale, sei chiamato ad adempiere i tuoi doveri, fino a quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, pertanto il bilancio consolidato lo devi portare a termine come maggioranza. Se qualcuno vuole usare il termine bilancio e dei consigli comunali con il bilancio come una leva che può far venire fuori quelle che sono le difficoltà in una maggioranza, non è il mio caso. Io vado in consiglio comunale, mi siedo tra i banchi e faccio quello per cui sono stato votato, sono stato chiamato e do seguito anche a quelle che sono le intenzioni fatte con il bilancio di previsione, ovviamente. E questo è quello che è accaduto mercoledì da parte mia. Ovviamente poi mercoledì ci sono state tutta una serie di interventi, come da ormai da molti consigli a questa parte, che hanno raccontato un po' la storia di questa maggioranza, le opposizioni a quelli che erano i consiglieri ovviamente di maggioranza. Il tenore della discussione sinceramente non è che mi faceva impazzire, infatti a un certo punto ho dovuto mettere un punto, ho dovuto chiarire determinati aspetti che nel mio caso chiarivano proprio la visione politica che mi ha portato in questi 4 anni a comportarmi in una determinata maniera. La visione politica è stata anche quella di dire che io ho sposato questo progetto dal 2018 e fino alla fine ovviamente possibile di questo mandato sono tra i banchi di maggioranza, nel bene e nel male, perché quando ci siamo portati a casa i risultati, ci siamo messi le spillette, va tutto bene. Poi quando iniziano i problemi inizia a scrispiolare qualcosa, un po' qualcuno scappa via eccetera. Diciamo che l'ultimo consiglio comunale in alcuni momenti sembrava un po' come il momento in cui ognuno si doveva togliere il proprio sassolino dalla scarpa perché c'era la percezione di questa chiusura del mandato consensuale, è un po' quasi una volontà consensuale anche perché abbiamo avuto altri componenti di ABC e qui in studio hanno detto noi non rientriamo più in maggioranza, siamo fuori dal discorso perché tutto è nato da questa famosa situazione protocollata il 12 di agosto nella quale si chiedeva di portare in discussione un'ipotesi di un preventivo, di valutare questa tipologia di offerta nell'ex Parco degli Olivi dove c'è una costruzione in corso, ma lì c'è una parte di questa costruzione che andrà in proprietà al comune di Altamura e quindi proprio per rimettere un po' insieme i cocci, i cocci della notizia, si era pensato di passare anche a una ipotetica acquisizione da parte del comune di una volumetria maggiore, tanto da avere poi lì in quell'area gli uffici dell'anagrafe per i quali paghiamo il fitto a poche centinaia di metri di distanza. Adesso non discutiamo la questione sotto l'aspetto tecnico, se è legittima o non legittima, la questione è politica. Cosa è successo? Innanzitutto nell'ultimo periodo, poi sono venute fuori, si è scoperto, si è capito anche un attimo quello che è accaduto, c'è dal 12 agosto che c'erano degli assessori che dovevano essere a conoscenza di questa proposta, che magari non sono stati interpellati, ora le motivazioni io sinceramente, personalmente non le conosco. Io sposterei un attimo la sticella sulla discussione. Ciò che credo anche il gruppo, almeno da quello che mi è sembrato di capire, di ABC, ha provato a fare. E cosa secondo me era necessario da fare? Nel momento in cui è accaduto poi che la delibera è stata approvata in giunta, con il dato importante che è stata approvata senza la presenza di due assessori, di un gruppo anche importante, si doveva un attimo fermare, secondo me, la situazione. Non revocare immediatamente, perché probabilmente con una discussione assanatoria, chiamiamola, di un atto già compiuto, avrebbe portato anche a una soluzione differente. Che cosa dico io? L'acquisizione della volumetria in più, delle superfici in più, comunque è legittima, voglio dire, però deve, secondo me, vestirsi su una visione politica, cioè capire, è necessario avere tutte queste superfici per l'ufficio dell'anagrafe? Probabilmente sì per il discorso degli archivi. Come si combina questo con la probabile realizzazione di un'altra struttura nella zona vicino al comando della polizia locale? Cioè dovevamo, secondo me, tutti quanti spostare l'asticella su questa discussione. Vuoi che la sindaca in quel momento non c'era per i suoi problemi? Vuoi che probabilmente ABC era già uscita con un comunicato dirompente? Vuoi una serie di altri che il Consiglio era già stato convocato nei giorni a seguire? Vuoi che non c'era il tempo, quindi probabilmente materiale, per poter affrontare questa discussione? Tutto questo ovviamente non è accaduto. Privando la città, secondo me, di questa discussione che è importante, perché probabilmente questa delibera che ora verrà discussa dalla Procura, perché sono state mandate le carte alla Procura su richiesta di alcuni consiglieri di opposizione, alla fine, laddove dovesse essere legittima, senza alcun problema, questa discussione rimarrà, verrà rimandata alla prossima amministrazione, mentre la città continuerà a non capire che cosa si sta facendo realmente, che cosa si vuole realizzare, qual è la strada che si sta percorrendo. Io credo che questa discussione sia più che mai necessaria. Il mio rammarico è che purtroppo questa discussione in Consiglio Comunale non è avvenuta, cioè si è spostato il focus su una questione prettamente politica. E lì poi i vari partiti si sono buttati, come diceva il Consiglio della Terza, i piatti in faccia. È successo in Consiglio Comunale, probabilmente doveva accadere in altre sedi. Però, diciamo, quello che veramente a me dispiace è che la città, nessun cittadino sta riuscendo a capire realmente qual è la discussione. Allora, la discussione, provo a spiegarla io, è che questa azienda che ha realizzato questo fabbricato, che doveva cedere già per convenzione delle superfici al Comune di Altamura, ha proposto altre volumetrie a un determinato prezzo, che nemmeno lo decidiamo noi, caro Felice. Cioè, quello poi passa da altri organi, dall'Agenzia delle Entrate, anche per la verifica della congruità. E capire, secondo me, se veramente queste superfici sono necessarie per quel tipo di uffici. Perché se io oggi penso che si va verso la digitalizzazione, che si va verso il consumo meno di carta, quindi tutti quegli archivi di cui si aveva bisogno un tempo, probabilmente da oggi non avremo... Dicevi che questi altri mille metri possono sembrare troppi. Probabilmente questa è la discussione. Probabilmente questa è la discussione che è da affrontare. Perché non dimentichiamoci che il Comune di Altamura ha avviato un processo di digitalizzazione dei suoi archivi, ha avviato un processo di digitalizzazione delle pratiche. Oggi io, che sono un tecnico, non invio più una pratica al Comune con il mio bel faldone, che vado là e mi faccio mettere un timbro. Ci sono i fari portali, inserisco la pratica ed è tutto digitale. Il mondo sta cambiando. Pertanto, diciamo, io avrei affrontato, ripeto, e voglio ripetermi, avrei affrontato la discussione su questo tema. Forse perché sono un po' più pragmatico, sono un po' più sul capire e trovare le soluzioni. Probabilmente c'è chi ha visto Acque Torbide in questa vicenda e allora magari ha detto, preferisco fare un passo indietro. Sicuramente, sicuramente l'azione politica, diciamo, qualche gruppo politico intravedeva Acque Torbide, come tu dici, però voglio dire, lo faccio dire a loro quello che loro vedevano sostanzialmente. Ed effettivamente è un primo step. Mi sarebbe piaciuto capire, diciamo, la posizione di altri gruppi politici della maggioranza su questo tema. Ma, però, di fatto, c'è stata solamente l'autosospensione di alcuni assessori. La cosa è divertente. C'è stata Sim che diceva, no, non siamo d'accordo, il nostro assessore, anche lui, è autosospeso. Però, di fatto, una discussione concreta, diciamo, non c'è stata. Non c'è stata, è successo a cercare di riparare i danni di una maggioranza ormai sfaldata e però, purtroppo, questo non ne è avvenuto e poi i consigli comunali ormai sono... No, ma la cosa che più ha fatto un po'... diciamo incuriosire chi opera nel mondo dell'informazione è l'atteggiamento del PD, che praticamente ha detto vabbè, io esco fuori dai giochi, vedetevela voi, una volta che avete risolto le storie, poi mi richiamate. Poi che fanno? Dopo un po' di tempo escono con un secondo comunicato dicendo noi siamo sempre fuori, ma se volete il nostro appoggio possiamo darlo sul punto A e sul punto B. Cioè, mettono ulteriori condizioni. Poi c'è il silenzio della sindaca, che è tornata in aula e noi su questa vicenda non abbiamo potuto capire qual è la posizione della sindaca, se è d'accordo o se non è d'accordo. Perché chi ha gestito questa situazione è stata la vice sindaca Petronelli perché in quel periodo la sindaca era assente. Stiamo parlando del 12 agosto, quindi a tre giorni da ferragosto non è che la sindaca era in ferro, insomma aveva problemi di salute, ma direi che anche forse qualche consigliere comunale forse era in vacanza. Beh, ti posso dire una cosa Felice? In una squadra di calcio, in una famiglia, quando si prendono determinate decisioni è troppo brutto dire che la colpa è di uno, l'altro non c'era, eccetera. Le colpe credo che se le prendano un po' tutti, quando si perde una partita o quando si commette un'azione sbagliata. Secondo me proprio il cercare il colpevole in questa situazione è stato deleterio per questa maggioranza. Ora è chiaro che anche io voglio capire la visione della sindaca su questo tema. Dare la colpa solo alla vice sindaca sinceramente non è quello che a me interessa. No, non sto parlando, stiamo dando colpa a nessuno, stiamo raccontando quello che è accaduto. C'è nel senso attribuire, mettere la spilletta solo alla vice sindaca su questo tema. In quel periodo c'era lei. Però c'è anche da dire, è vero che c'era lei, però la delibera è stata approvata anche dai due assessori del PD, è stata approvata dall'assessore Tommaso Lorusso ed è stata approvata anche dall'assessore Vito Menzulli. Quindi sì, c'è un soggetto proponente, c'è un soggetto che ha fatto delle interlocuzioni, c'è un soggetto che ha portato avanti una delibera, però c'è anche la maggioranza, tranne ABC, perché di fatto questo è accaduto, che ha approvato. Di fatto effettivamente solo la sindaca non ha espresso la sua volontà nella seduta di giunta incriminata, però subito dopo avrebbe potuto sicuramente riunire i cocci della maggioranza in una riunione e dire va bene, è accaduto questo, io non ero presente, capiamo quello che dobbiamo fare perché non vogliamo sfasciare quello che abbiamo creato. Di fatto questo non è accaduto, probabilmente per i tempi, probabilmente per le condizioni, però ancora oggi hai una ragione su quello che hai detto, la sindaca non si è espressa. Si è stato più volte chiesto durante il Consiglio Comunale, però questo non c'è stata delucidazione. Io, ripeto, non mi piace attribuire le colpe a uno anziché a un altro, do una lettura del Partito Democratico che effettivamente a un certo punto dice va bene, c'è ABC che ha creato la spaccatura e quindi a questo punto per senso di responsabilità approviamo solamente il bilancio e la variazione al piano triennale delle opere pubbliche, ma non ha neanche questo senso, perché dopo il bilancio e la variazione al piano triennale delle opere pubbliche c'erano anche i debiti fuori bilancio, che non ho capito per quale motivo, per quale scelta politica tu non devi approvare anche quegli altri. Quindi questi fornitori, queste persone che si troveranno ad attendere, già aspettano, con sentenza avevano dei diritti di prendere questi soldini, oggi non li possono più prendere, devono aspettare il commissario prefettizio e attendere ancora del tempo. Secondo te il commissario? Penso proprio di sì, Felice, non vedo proprio i presupposti per poter continuare questa amministrazione. e laddove, io vi dico già che laddove dovessero cambiare le posizioni, io sarò fuori sicuramente, io sarò fuori, perché io ho fatto una premessa alla sindaca quando è accaduto tutto questo, ho detto, io ci sono con te, ci sono con te in maggioranza, per il principio che ho detto all'inizio, cioè di sposare il progetto dall'inizio e portarlo a termine, ci sono con te, però oggi non ci sono più le condizioni, approviamo il bilancio, approviamo la variazione delle opere pubbliche, tutto quello che c'è da approvare e poi, secondo me, dobbiamo andare a casa. Secondo te, tu sei anche abbastanza giovane, questo qui pro quo, chiamiamolo così, che è accaduto, legato anche ad altre situazioni che la maggioranza ha portato avanti, la minoranza invece diceva che c'erano degli errori, potrebbe rappresentare una macchia ai fini della futura campagna elettorale per le liste di centro-sinistra? Beh, la situazione frastagliata così com'è, sicuramente non giova al centro-sinistra, e questo ormai è chiaro. Il tema, il tema, ripeto, se io penso a una prossima campagna elettorale, come ho detto all'inizio, sposterei il focus, cioè direi, ok, noi oggi ci troviamo davanti a questa situazione, è stata approvata, ha fatto il suo corso, è tornata pulita la delibera, è a posto, non ci sono problemi di liceità, bene, affrontiamo la discussione sull'utilizzo di questa parte, se realmente può essere utile alla comunità. Ma io ho sentito parlare anche di un'altra sede, di un altro piccolo centro-anziani da quelle parti. Sì, allora, il discorso, ripeto, se io dovessi pensare alla prossima campagna elettorale, non penserei a buttare fango tra i vari partiti per quello che è accaduto. È un po' difficile che non accada. Sarà sicuramente molto difficile, però con un po' di intelligenza, ripeto, e sicuramente se dovessi ricandidarmi, diciamo, nei prossimi mesi sarà questa la mia azione, sarà proprio quella di discutere e far capire ai cittadini veramente quelle che sono le tue intenzioni, cioè quello che veramente tu pensi che si possa fare. Ma tu che sei anche un tecnico, perché sei geometra, adesso togliti la maglietta di ABC, va bene che hai già tolto. Come avresti visto questa, lasciamo stare i numeri, le cifre, le cose che poi, ripeto, sono tutte, come avresti visto questa opportunità di avere dei locali in un'area che comunque si presta bene alla viabilità, si presta bene a tutta una serie, è vicino al centro, è vicino alle periferie. Certo, i parcheggi non è che Altamura ne ha tanti, abbiamo problemi in tutte le vie, però ecco, mi sembra di capire che tu saresti per un nì. Senti, allora, da tecnico, bene, anzi, più che da tecnico, mi piacerebbe fare questo ragionamento da cittadino. Io dico, abbiamo già delle superfici, il fabbricato esiste, perché era, diciamo, la procedura che è stata fatta, voglio dire, ha dato la sua risposta, il fabbricato esiste, è stato costruito, eccetera. E' un'opportunità, nel senso che ci sono già delle superfici, forse quelle superfici per quelle che sono le dimensioni degli uffici non sono sufficienti, valuto la proposta di un cittadino, come valuto le proposte di tutti i cittadini che possono arrivare al Comune di Altamura, perché, Felice, la realtà è questa, il cittadino si deve interfacciare con la politica, si deve interfacciare, e si interfaccia con gli atti, dice io faccio una proposta e tu mi rispondi. Ripeto, io non direi no a prescindere a questa situazione, lo dico apertamente, lo dico con molta sincerità, perché sicuramente, diciamo, può essere un'occasione per spostare determinate sedi che oggi magari si trovano in altri locali che sono infitto, perché magari si può decentrare degli altri servizi, perché comunque la nostra città è grande, non dimentichiamocelo questo, decentrare dei servizi può essere utile al cittadino, può essere utile. Pertanto, ripeto, io non dirò mai, laddove questa situazione dovesse arrivare in Consiglio Comunale, io dovessi essere presente in un prossimo Consiglio Comunale, laddove la città me lo potrà consentire, o io propormi per la città, dicevo io valuterei la situazione molto liberamente, molto liberamente, ma con una condizione fondamentale, cioè vedere realmente quello che a noi può servire. Cioè tu dici, ok, visto che c'è questa costruzione, tu mi proponi X metri di superficie, ok, io vedo un po', non è detto che mi servano tutti, magari prendo quota di quella proposta che tu mi hai fatto. E quindi vado anche a risparmiare su eventuali somme messe. Io avrei agito, io agirei in questo modo, tra l'altro sinceramente il sogno mio da quando sono diventato Consigliere Comunale era veramente la reale interlocuzione con i soggetti proponenti di questa città, che sono gli imprenditori, che sono i cittadini, che sono qualsiasi altro soggetto, però molte volte, devo essere sincero, parte di questa amministrazione è un po' ingessata. Un po' di preconcetti. Forse sì. Cioè vede torbido dappertutto. Forse sì, forse sì. Cosa che non è proprio nel mio carattere, non è nel mio modo di fare sinceramente. Avrei preferito che ci fossero state in quattro anni e mezzo molte più discussioni su questo punto. Ah sì, guarda, io personalmente ho detto che finalmente è venuta fuori una discussione politica. Bravo, bravo, proprio per questo motivo. Proprio per questo motivo. Negli ultimi mesi abbiamo visto un po' di schieramenti, posizioni, discussioni. In Consiglio Comunale io ho fatto una dichiarazione dicendo, vedete che io in quattro anni e mezzo ho avuto una visione politica che mi ha portato a fare determinate azioni. Su questi temi viene fuori quella che è la tua visione politica, che può essere approvata dai cittadini, che può essere non approvata, però la cosa bella è che veramente si poteva venire fuori una discussione seria. Se questo fosse accaduto con tutti i soggetti proponenti sarebbe stato bellissimo. Se ci fossero state molte più interlocuzioni, portare in discussione le divergenze, i punti di vista diversi e poi arrivare a un dato. Scusami se ti interrompo, se mi acavallo a te. Perché avrebbe dato l'impressione agli operatori economici che questa maggioranza era capace di interloquire con loro. Quindi tu pensi sia una chance persa per la maggioranza? Secondo me, non una chance persa, forse i modi, i tempi... No, per quello che è accaduto, se questo ti fa andare tutto a casa... Però tu immagina, ieri sentivo un altro consigliere della maggioranza su questa trasmissione, che ci sono aziende che vogliono dislocare le volumetrie, decongestionare determinate zone, non costruire per forza cemento dappertutto, eccetera. Se io mi mostro alla città e ai soggetti proponenti in genere, già ingessato perché ci sono dei preconceci, ci sono delle situazioni che non funzionano, il soggetto proponente che è l'operatore economico, che è il cittadino o l'impresa che sia, lui vuole il risultato, lui vuole portare a casa i soldini per cui ha fatto l'investimento iniziale, pertanto se uno deve provare a immaginare che qualsiasi proposta diventi di dominio pubblico in questa maniera e diventa la leva, come ho detto prima, per buttare all'aria un'amministrazione, io al posto suo non farei mai una proposta, quindi diventa, ripeto, forse un'occasione persa. Allora, Monitino, siamo arrivati in conclusione, mentre tu parlavi mi è venuta in mente una canzone di Adriano Celentano, dice, è inutile suonare perché qui non vi aprirà nessuno, cioè come dicevi tu, se il mondo delle imprese bussa al campanello e i risultati sono questi, e dicevi, non suonare perché non vi aprirà nessuno, è il successo? Diciamo, ripeto, forse sono state le modalità che hanno portato a questo risultato, io diversamente avrei preso il buono che c'era nella proposta, lo avrei condiviso e avrei capito un attimo quello che poteva essere il risultato migliore e avrei cercato veramente di far capire ai cittadini quello che sta accadendo, perché i cittadini di questa situazione… I cittadini, insomma, mi auguro che anche attraverso, perché siamo stati gli unici a dare un po' di acqua da bere ai cittadini, perché l'attività politica era spenta, ingessata, chiusi ognuno nelle proprie barricate e posizioni e grazie a Canale 2 siamo riusciti a tirare una mezza parola a tutti gli attori di questa vicenda e ad aiutare i cittadini a capire, perché è anche giusto, anzi direi che sia obbligatorio, doveroso per un politico informare la città di quello che è l'attività politica e amministrativa, ma anche noi come organo di informazione abbiamo il dovere di far emergere un po' i fatti, ci auguriamo insomma di averlo fatto. Sì, io ripeto, ti ringrazio perché spero di aver chiarito anche la mia posizione, insomma un po' a tutti quanti, ne avevo questa necessità, mi è dispiaciuto che questo non è accaduto nella sede più importante di questa città che era il Consiglio Comunale, mentre si è discusso di tutt'altro, ci si è arrivati veramente a una discussione secondo me non… Si poteva evitare dal saluto sto polverone? Probabilmente sì, ripeto, con i tempi giusti, con le azioni giuste anche della prima cittadina, secondo me su questo un po' ha peccato. Non sappiamo la posizione di Rosa, Rosa di fatto ha rassegnato le dimissioni. Anche quello era un atto dovuto, secondo me, ripeto, anche perché laddove non dovesse accadere, diciamo, questo, ma non penso proprio che non accada, non mi vedrà sicuramente partecipe in… Certamente la Rosa Melodia poi l'avremo qui nei nostri studi, insomma penso che avrà il senso anche di responsabilità di dare… Il senso di responsabilità avrà la necessità come un po' tutti quanti. Di dare anche delle spiegazioni… Vabbè, ci auguriamo insomma che tutta sta roba si concluda nel migliore dei modi perché poi alla fin fine siamo tutti concittadini al di là di ogni posizione. Infatti come ho detto in chiusura del mio intervento in Consiglio Comunale, auguro alla città una buona amministrazione per il prossimo futuro, insomma, perché è importante e la città ne ha bisogno. È certo, è certo. Ripeto, siamo tutti cittadini di Altamura, poi al di là delle visioni… Di dove ognuno di noi vive e abita, ma siamo tutti cittadini di Altamura. Grazie Annunzio Monitillo, Consigliere Comunale, ex ABC, è stato l'ospite di questa puntata, grazie a voi per averci seguito, io vi auguro un buon fine settimana, ma lunedì ci vedremo sempre qui, solita ora, con Canale 2C e adesso vi lascio a Emanuele Giordano con Chichi Ricchi. Alla prossima. Grazie. Grazie.